Ciao a tutti e benvenuti su questo mio canale. Oggi nuovamente parliamo di fumetti, parliamo di Samuel Stern e di una nuova edizione che esce in fumetteria a cura della Bugs Bomics sulla riedizione del numero 1, ovvero il nuovo incubo. L'edizione di cui vi parlerò oggi avrà una veste nuova, tutta a colori, molto più grande, con delle cose extra che vi farò vedere poi tra pochino. Questa qui è l'edizione cartonata del nuovo incubo, edito appunto dalla Bugs a colori, cartonata con un prezzo di 19,90, ma ve ne parlo ora a brevissimo nel dettaglio e vi faccio vedere un po' all'interno com'è costituito questo volume. Bene, c'è da dire innanzitutto che Bugs Bomics arriva finalmente in fumetteria dopo due anni dal suo esordio in edicola, con la pubblicazione mensile di Samuel Stern che ormai ci accompagna da due anni ogni mese in edicola. L'idea di andare in edicola per Bugs Bomics è in qualche modo una nuova apertura verso il mondo del fumetto, verso il mondo di quei lettori che in qualche modo sono abituati a comprare, ordinare fumetti in fumetteria e in libreria, anche perché in qualche modo l'edicola è più per gli appassionati di mensili come i Bonellide o comunque i fumetti Marvel che in qualche modo ad oggi escono e continuano a rinnovare la loro editorialità in edicola. Ecco allora parliamo di questo cartonato, più che altro vorrei mostrarvelo perché la resa che ne esce fuori è molto bella e il risultato è veramente eccezionale. Allora questo è il cartonato di Samuel Stern, questa è la copertina della versione regolare, cosiddetta Regular, ora vi faccio vedere a fianco anche la versione di Adriana Farina che è la variant di questo cartonato. Eccola. Io ho preso solo la Regular per una questione praticamente di estetica, anche se devo dire che il prezzo è molto molto cospicuo. La variant di questo cartonato costa 24,90, la Regular 19,90. Per renderle entrambe è un po' proibitivo nel senso che cambierebbe solo la copertina e non è così eccezionale dal mio punto di vista. Questa invece è tutta un'altra cosa, è strabitosa. L'edizione variant oltretutto contiene, se non ricordo male, una stampa sempre di Adriana Farina ed entrambe, sia il fumetto sia la stampa, sono a tiratura limitata di 500 copie. Va bene, io direi di inoltrarci e farvi vedere un po' questo cartonato nel suo dettaglio ed esplorarlo insieme a voi. Questa appunto, come dicevo, è la copertina, questa è la costina, la faccio vedere così, questo il retro. Ok. Allora, iniziamo. Fronte spizio. Un colofon dove ovviamente ci sono i crediti, con questo grande logo che sormonta l'inizio della pagina. La copertina, come sempre, è a cura di Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo ed Emiliano Tanzillo. Scrittura della sceneggiatura a cura di Gianmarco Fomasoli e Massimiliano Filadoro. I disegni di Luigi Formisano, i colori di Antonio Antro. Il progetto grafico, logo, impaginazione e lettering, sempre a cura di Antonio Altibrandi. Questa è la pagina iniziale, il nuovo incubo, a colori. A sinistra, invece, questa Splace Page, tutta rossa, come una vetrata. Bene, i colori sono belli, non eccezionali. Io mi aspettavo qualcosina in più, qualcosa di più estroso, forse, qualcosa di diverso rispetto al classico colore da fumetto in digitale. Però va bene. Le aspettative, ovviamente, sono sempre soggettive e non sempre raggiungono, appunto, i desideri. Ovviamente i colori sono fatti molto bene, nulla da dire su questo. Vi faccio vedere velocemente anche altre pagine. Ecco, alcune pagine come questa sembrano essere quasi monocromatiche. sui toni del blu, alcune sui toni del giallo, come questa, i toni del verde, i toni del rosso. Ecco, questa cromaticità mi piace molto. Rimanda moltissimo al mondo di Samuel, al mondo, in qualche modo, di questa visione quasi mistica, no? Del mondo, del librario di Edimburgo. Poi, passiamo ai contenuti extra che Bugs Comics ha deciso di inserire all'interno di questo volume. Allora, gli extra sono innanzitutto dedicati alla costruzione di questo fumetto, alla struttura della sceneggiatura. Già nell'extra del primo anno, del 2020, avevamo visto delle nozioni di sviluppo del processo del fumetto della Bugs Comics. Qui, invece, ne fanno un uso molto più particolare, più specifico, sulla scrittura della sceneggiatura, ovvero dagli idea alla tavola finale. Ecco, il titolo di questo extra è Dalla sceneggiatura alla tavola. Non fanno altro che farci vedere la sceneggiatura scritta, la prima idea di concept del layout della tavola, una struttura, in qualche modo, più definita dello schizzo disegnato della tavola, la versione a china e la versione, come in questo caso, per il cartonato colorata definitiva. Questa è quella in miecchia e nera, ovviamente, definitiva, che troviamo sul volume mensile. Ecco, questo extra ci parla di questo processo per diverse pagine e raccontarci, in qualche modo, quelle più importanti. Eccole qua. Giusto un paio. E poi, per chiudere, la parte di infaginazione di questo cartonato, abbiamo i ringraziamenti a cura di Gianmarco, qui sulla sinistra, e sulla destra, un'immagine figure intera di Samuel, in miecchia e nero, su sfondo rosso. Ecco, questo in qualche modo è il cartonato che si conclude in questo modo. È un'edizione sicuramente da avere, la copertina, anche al tatto, è molto bella. Vi ricordo che questa edizione non è numerata cronologicamente, bensì la Bugs Comics ha deciso di pubblicare, come già si è avuta notizia, dei numeri della serie regolare tra i più importanti, tra quelli che, in qualche modo, hanno suscitato più sensazioni e emozioni al lettore. Non è uno spoiler, ma il prossimo numero di questo cartonato, quasi sicuramente, sarà il numero 6 della serie regolare, ovvero Valery. Lo dico perché già è uscita la notizia, in qualche modo, per chi segue i canali della Bugs, questa non è una novità, ma si sa. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato esaustivo. Vi lascio, ovviamente, al prossimo incontro. Iscrivetevi, se vi va, e a presto. Iscrivetevi, se vi va, e a presto.